Ciao a tutti e benvenuti in questo corso su Vantage. Per seguire il corso potete scaricare in versione di prova i software da SketchUpItalia.it e V-RayItalia.it. Link in descrizione. Sono Marco Chiarello, un architetto specializzato in SketchUp e in vari motori di rendering e vi accompagnerò in questo corso con lezioni brevi ma complete. Lezione 9 sul Record Camera Movement. Quindi nella lezione precedente abbiamo visto come esportare il rendering di alta qualità. Ora vediamo un altro paio di alternative che ci sono e consistono in questo. Nel Record Camera Movement che vediamo in particolare in questa lezione. Da non confondere con quello che vediamo poi nella lezione seguente che è la registrazione della viewport. Cioè letteralmente navigo nella finestra di rendering e mi diventa automaticamente immediatamente un video. Quello che si vedeva così come lo si vedeva. Il Record Camera Movement invece mi permette di definire il percorso del mio video non attraverso camere come abbiamo fatto fino ad ora che diventano punti di passaggio come dire obbligati per la telecamera ma invece definiamo direttamente il percorso della telecamera all'interno dell'area di disegno. Quindi si tratta di selezionare Record Camera Movement. Io navigo nell'inquadratura orbito, tengo premuto il tasto destro e mi guardo intorno, magari zoom anche in avanti e poi riclicco su quel pulsante. Questi movimenti che ho fatto sono diventati un percorso per la telecamera. Sono diventati un video non ancora esportato ma pronto per essere esportato o modificato. Quindi dobbiamo necessariamente eliminare tutto quello che c'è nella linea del tempo o meglio possiamo aggiungere a questo volendo però meglio ripartire praticamente come fosse un lavoro nuovo. E questo equivale anche a dire che non è che posso avere più di un percorso. Si potrebbe intuire che ci possa essere una coda delle renderizzazioni ma in realtà non funziona così. Cosa voglio dire? Piccola parentesi su questa cosa del quando ho finito un video come faccio iniziando un altro, quello di prima lo butto via. Ma sostanzialmente sembrano proprio di sì perché se vado nella teiera mi dici che posso aggiungere un elemento alla coda di renderizzazione ma se io poi svuoto la linea del tempo questo qui non c'è più. Quindi in buona sostanza non è che si riescano a salvare i percorsi. Non risulta proprio possibile a meno che io non vada a salvare una nuova scena. Salvo come nuova scena mi diventa un nuovo file di Vantage. Quindi dentro a uno c'è un percorso video e nell'altro file, nell'altra scena Vantage c'è un altro percorso video. Non vorrei sbagliarmi ma non ho trovato ulteriori informazioni. Poi la guida online è particolarmente lacunosa secondo me per quanto riguarda la collaborazione con SketchUp. tasto destro, delete all. Tolgo di mezzo tutto dalla linea del tempo, prendo il mio camera movement e lo inserisco nella linea del tempo. A questo punto vedo direttamente questo. Non è che vedo le varie scene, i vari passaggi. Questo è il mio video. Se vado nella sezione time o nella sezione shot, poi vedo praticamente la stessa cosa. Cosa posso andare a fare? Clicco play e me lo guardo. Sono esattamente i movimenti che stavo facendo quando avevo avviato il record camera movement che quindi è diventato il mio percorso per il video, i tempi per il video. Non è molto comodo secondo me, però per alcuni tratti magari in cui proprio voglio soltanto guardarmi intorno, altrimenti devo creare delle scene che però non hanno idea. Cioè se io parto da qui, questa è la prima scena, e poi faccio questo movimento e torno al punto di partenza, la scena di arrivo coincide con quella di partenza e il percorso non viene salvato. Si ragiona in termini di camere. Se invece proviamo, aggiungo un nuovo camera movement, faccio questo movimento dentro un ambiente, voglio farlo vedere un po' in tutte le direzioni, questo camera movement che ho fatto ora, immaginiamo di aggiungerlo, che ne so, aggiungo questa scena e poi aggiungo questo camera movement. combino le camere con alcuni spezzoni di movimenti che non avrei potuto fare altrimenti. Non posso, ragionando in termini di camere, avere un movimento di questo tipo, rivediamolo. Quindi sì, assolutamente utile, assolutamente, oserei dire, indispensabile in alcune situazioni, in alcuni tipi di movimento per avere una fruizione completa del nostro ambiente. Chiaramente, quindi poi, per quanto riguarda l'esportazione, si torna a quanto detto nella lezione precedente sull'esportazione in sequenza del formato video. E quello che vedremo invece nella prossima lezione è proprio un'esportazione di tipo diverso, il quick, il record viewport to video file. Nella prossima lezione lo approfondiamo. Nella prossima lezione è un'esportazione di tipo diverso,